Salve, benvenuti nella cucina di Tati Academy. Io sono Dottiana. Oggi prepareremo insieme il risotto con verza e funghi, con tutti gli ingredienti del commercio equo e solidale. Vediamo adesso insieme tutti gli ingredienti. 125 grammi di riso mesto, 55 grammi di funghi citadi, mezza cipolla rossa, tre foglie diverse tagliate e fine, un cucchiaio e mezzo di curry, un pizzico di sale marino e dell'olio d'oleva. Prepariamo la ricetta. Mettiamo a sfriggere la cipolla, aggiungiamo la verza, aggiungiamo i funghi. Dopo qualche minuto aggiungiamo il nostro riso e lo facciamo saltare per qualche minuto. Mentre il tutto soffrigge, ho messo a bollire dell'acqua con del curry e un pizzico di sale. Aggiungiamo il nostro curry. Dopo una ventina di minuti il nostro riso sarà semi cotto, per cui aggiungiamo ancora altro brodo con il nostro curry, mescoliamo e aspettiamo ancora una ventina di minuti finché non sia a cottura continuata. Per questa ricetta ho usato tre tipologie di riso differenti, però se a casa ne ho usati uno solo, verrà buonissimo lo stesso. Questi ingredienti li puoi trovare nelle botteghe di mondo solidale, che fanno bene a te e a chi ti piace. Ciao e alla prossima ricetta di Tantecana. Ciao e aiutarmi dei sottotitoli. Ciao e a tutti. Grazie a tutti